La cultura per rilanciare l'agronocerino sarnese dalla splendida location di Villa Lanzara a Sarno l'invito agli amministratori locali a far sì che il turismo culturale possa rappresentare uno dei volani per il nostro territorio ed è venuta fuori dagli incontri letterari che si stanno susseguendo nella splendida struttura di Sarno una idea davvero accattivante, creare cioè una rete culturale per cercare di arrivare a dare una nuova identità all'agronocerino partendo anche dal suo straordinario passato e valorizzando il patrimonio un discorso che spesso rimane fine a se stesso invece chi è intervenuto all'appuntamento di Villa Lanzara ha posto come obiettivo proprio la progettazione comune degli eventi culturali gli enti insieme per creare eventi sempre più importanti sotto l'aspetto culturale che possano attirare più persone anche al di fuori del contesto territoriale Io l'ho appoggiata con grande entusiasmo perché tutto quello che è culturale mi riempie di gioia e mi fa molto piacere quindi la verità sta che non l'ho creata io, io l'ho appoggiata e l'ho favorita perché è una cosa che mi interessa moltissimo e poi anche perché ho grande ammirazione per anche tutti gli assessori delle persone che si occupano di cose culturali perché qualcuno se ne deve occupare e loro sono tra i pochi che se ne occupano e io li ammiro La cultura è qualcosa che accomuna tutti noi da tempo l'Ande ha iniziato un percorso che riguarda la cultura, la cultura contro le mafie un progetto che è stato accolto con favore in tantissime scuole di vari comuni quindi andiamo avanti su questo e abbiamo in mente delle cose che credo possano servire a tutta questa grande comunità, non ad un solo comune